Bella ragazzi, qui Bluefire in compagnia dei due ProPlayer, in realtà sono con ProGamer. Bella ragazzi e bentornati sul nuovo video, oggi siamo sul canale di Blue e sul mio per, diciamo, per il nuovo contest. Ehi, contest! Vai! E quali sono gli epici premi di questa volta? Allora, i premi, il vincitore potrà scegliere tra vari premi. Quindi, una PSN card da 15€, una card per l'Xbox da 15€, oppure una card per Steam o per Origin da 15€, oppure direttamente il DLC di Code Onslaut. Di Code Go, sì ragazzi, quindi per questo mese, il contest dura circa 3 settimane, 2-3 settimane. Vi metterò come sempre le scadenze in iscrizione, eccetera, eccetera. Per partecipare al contest, innanzitutto dovete iscriversi al canale, iscrivervi, iscriversi, eccetera, vabbè, avete capito, al canale dei due ProPlayer. Ragazzi, è fondamentale perché durante l'estrazione verrà appunto segnalata la spunta che, se non siete iscritti, appunto, non appare la vittoria, non appare il vostro commento. Quindi dovete essere iscritti, dovete mettere un mi piace a questo video e al video sul canale dei ProGamer. Ce ne saranno due sul mio canale, due del contest, perché io ne ho fatto uno prima, poi Bluefire ha detto, fallo sul mio canale così va più pubblicità. Sì, così lo aiutavo un pochino, visto che già dare via così tante cose, cioè, è bello anche aiutare chi non ha visibilità. E vabbè, e quindi avete queste possibilità qua. Dovete mettere, mi raccomando ragazzi, like, mettete il pollice in su, se non l'avete fatto, fatelo ora. Ora, ora, ok. Bene ragazzi. Aspetta, devo commentare su tutti i tuoi video. Sì, lasciate un commento sul mio video e su quello dei due ProPlayer. Sì, dopo che non possiamo fare l'estrazione. Durante l'estrazione appunto verranno calcolati i commenti di entrambi i video. Fatto. E, sì. Numero massimo di commenti oppure solo uno o basta? Io direi un commento solo, non più di uno. Se non si che era troppo casino. Estriamo magari con suadeo.ch. Esatto. Che è comodissimo, quindi un solo commento ragazzi, se sbagliate a farne due non viene contato, quindi state attenti. E, boh, sì, basta. Ah, per caso mai, poi lo eliminiamo giusto per giustizia. Non iscrivetevi al mio canale. No, è. Perché ragazzi. È una cosa principale da fare. Ragazzi, davvero, non fatelo perché voglio fare tanti contest ma non voglio iscritti grazie ai contest. Voglio farlo solo perché voglio regalare qualcosa ai miei fan e aiutare persone mentre si cresce tutti insieme su YouTube. Ok. E va bene ragazzi, allora per questo video è tutto. Al prossimo video. Bella. Bella. Ciao. 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 Grazie a tutti.